crema fino al 1937 aveva il teatro sociale ora in un libro vengono raccontati alcuni dettagli inediti sentiamo un volume per riscoprire il vecchio teatro sociale di crema progettato da giuseppe piermarini e distrutto da un incendio nel 1937 scritto da denise bressanelli il libro è stato presentato in municipio introdotto da alcuni esponenti della cultura cittadina al suo interno fra le altre cose l'elenco di tutti gli spettacoli allestiti al sociale dal 1742 a quando andò in fumo si tratta di una precisa ricostruzione della cronologia e dell'elenco degli spettacoli dal 1742 al 25 gennaio 1937 per riportare all'attenzione del pubblico odierno la storia di una comunità che dopo essersi adoperata per la costruzione di una struttura architettonica adatta alle proprie esigenze ha vissuto intensamente il suo teatro cittadino seguendo con amore costante gli spettacoli musicali e la prosa attraverso nuovi documenti l'autrice denise bressanelli è riuscita a integrare le informazioni di cataloghi precedenti offrire un corredo inedito di nomi e di dati che consente la conoscenza del teatro dal punto di vista del palcoscenico la grande quantità di notizie contribuisce inoltre a disegnare una carta geografica dei circuiti operistici il volume ricompone infatti la circolazione la frequenza del repertorio individua gli interpreti dell'epoca e rileva nello scorrere del tempo la graduale mutazione del gusto e del costume il volume è stato stampato in 500 copie ed è stato presentato nella sala dei ricevimenti del palazzo comunale di crema grazie a tutti grazie a tutti